possiedo una delle balestre ci precise del mondo costruito un bersaglio su un portogallo che ora sta girando vorticosamente in senso anti orario di farmi che i nostri amici a casa devono vedere fermo ovviamente nostra roba deve di beccare il punto esatto il bersaglio solo per scena ma questo ragazzi assicuro è più letale della pistola questo tra ti passa parte e parte no 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 eh Matisse no no fuori dal cazzo non è scena per cani questo è pericolo vai fuori codi dopo di me oh vediamo dopo sto a fare una cosa ci vediamo dopo 5 minuti vabbò questo è il dardo non sembra letale ma vi assicuro che lo è non cambia colazione si diciamo che ci sono riuscito ci sono quasi passate parte e parte ma difatti senza sacchi dietro lo passa parte e parte io lo so che vi state chiedendo tutti la medesima cosa perché c'era una bacchetta cinese invece del dardo semplicemente perché l'ho sparato quel cazzo di dardo e non non si sa dove è finito non si sa ho cercato ovunque niente io lo so che i non non si sa ho cerito non si sa ho cerito che provato so fuori RE Matis scusa era per il tuo bene per la tua protezione vieni qua